Mi chiamo Fracassi Giovanni, sono il proprietario e l'amministratore delegato del ristorante Da Ivo a Venezia. Siamo qui da 40 anni, 45, lavoriamo con una cucina toscano-veneta, che il vecchio proprietario, che si chiamava Ivo Natali, lui è originario di pesca, quindi un toscano. Dalla toscana ha portato qui a Venezia, che ancora non lo conosceva nessuno, 45 anni fa, questo prodotto. Io che ero dipendente nel 1982 e poi negli anni ho rilevato il locale nel 2006, ho continuato la tradizione che aveva portato lui a Venezia. Ha avuto un leggero cambiamento negli anni, cioè parliamo di 45 anni, il proprietario americano. Ha riscontrato tantissimo successo, di fatti lo vendiamo molto e avendo molti clienti americani è uno dei vini preferiti dalla clientela americana.